Salmo 15 L'ospite del Signore Signore, chi abiterà nella Tua tenda? Chi dimorerà sulla Tua santa montagna? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore. Non sparge calugna con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spreggevole e malvagio, ma onora chi teme il Signore. Anche se ha giurato a proprio danno, mantiene la parola. Non presta il suo danaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre.